Volete crediti per sniperare eh? Allora passate da fifacoin.com e applicate lo sconto il cine minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione Eccoci qui ragazzi, tornati con il secondo episodio finalmente delle leggende del Milan E questa volta ho comprato un giocatore veramente potente, ovvero Marco Van Basten Pagato 1.421.000, veramente tanto, alto 1.88m, ovviamente Icona Prime 93, adesso gli andrò a dare dei contratti poraccio Ragazzi prima di cominciare sotto in descrizione socialdiashop.com dove potete acquistare le vostre magliette a prezzo bassissimo Come questa qui retro del Milan, stagione mi sembra 2006, poi ci sono queste qua, la nuova maglietta del Milan ovviamente io ho scritto dietro il Cina E poi c'è questa qui in trasferta del Paris Saint Germain con Michael Jordan con scritto dietro un Bappé, anche questa stupenda Ma poi soprattutto c'è quella che vi farò vedere nel prossimo video che poi vi andrò a dire appunto sotto nei commenti di commentare Che è quella di Gullit, quella proprio retro-retro del Milan bellissima, anche quella sul sito Quindi se volete sotto in descrizione socialdiashop.com Ok vediamo un po' gli attributi velocemente, 83 di velocità, 81 accelerazione, 85 velocità scatto Non dei migliori, però ho già visto lì di fianco che l'agilità è 86, quindi non male per niente Tiro, anche perché se costa quella cifra lì vuol dire che è forte Tiro, potentissimo, 94 con 96 posizionamento attacco 97 finalizzazione, 94 potenza tiro, 88 tiri dalla distanza, 98 tiri al volo 90 rigori, quindi assolutamente da far ritirare a lui, passaggio non è dei migliori Il dribbling con l'agilità che vi ho già detto, 86, equilibrio 74, così così 95 di reattività, controllo palla 93, dribbling 88 e freddezza 92 Precisione di testa che mi interessa tanto è 90 E elevazione 85, quindi ragazzi con i cross Van Basten dovrebbe andare bene Resistenza 78, quindi anche lui, cioè non è che sia resistente tipo che ne so, Cantè Toti La mia scheda di acquisizione purtroppo ha avuto dei problemi C'è stato Natale, Santo Stefano, tutte le feste in mezzo E quindi purtroppo non sono riuscito a portarvi video Né a giocare al FUT Champions, ragazzi ormai è quasi un mese che non gioco più al FUT Champions Ma adesso con i Toti torneremo, più carichi di prima E faremo, sbusteremo, ricomincerò a fare il FUT Champions, le live streaming Ora che è tutto a posto, la casa è fatta, completata Siamo pronti per sfondare in questo nuovo anno del 2019 Con un sacco di contenuti, un sacco di video Volevo portarvi anche tanti altri video diversi da FIFA ovviamente Ma adesso vedremo un po', devo fare mente locale Ovviamente qui devo darle una forma fisica, poracci Siamo un po' com'è e come sono peggiorato io ovviamente a giocare dopo un bel po' di tempo Ma che cazzo, cos'è che è la squadra colorata dei colorati sta qua Comunque una cosa che ho notato dello scorso episodio ragazzi È che purtroppo non ho fatto vedere molto Gattuso Va bene che è un difensore, diciamo un centrocampista difensivo E quindi non è che si può far vedere chissà che azioni Però lo potevo far vedere molto di più Ed è quello che cercherò di fare appunto in questa partita Anche se io spero di riuscire a giocare Perché vi giuro ragazzi non so più giocare probabilmente Sembrerebbe cambiato ancora di più il gioco Mi sembra un gioco ancora diverso dall'ultima volta che ci ho giocato No raga, raga vi giuro che è cambiato di brutto Sembrano tutti, non lo so ragazzi sembrano stranissimi i giocatori Sembrano stranissimi i giocatori Allora dobbiamo un attimo, dobbiamo un attimo ripigliarmi perché qui Eh sì Vai subito di là, subito di là per Van Basten Ah no, è nei margini della Silva Vede lo scatto, Marco Van Basten può andare in velocità Mamma mia che passaggio, dentro ancora per Kylian Che non riesce a tirare Ancora dentro, Kylian Ma cosa hanno fatto? Neymar e Van Basten Van Basten ha fatto un bel passaggio Ve lo dico Il mio Marco ha fatto un bellissimo passaggio Io non so perché c'ho la maglietta del Barcellona Anche queste sono piccolezze che però voglio mantenere Devo rimettermi la maglia del Milan ovviamente Ancora Marco Van Basten Si gira ancora, bellissimi questi scambi Tra Marco Van Basten e Neymar Giugno da Silva Ancora lui, è ancora sulla fascia Oh, che è questo cross? Cos'era sto cross? No Mamma mia, bravo Deghea Bravo Deghea Finalmente pari qualcosa nella tua vita Bravissimo Kylian Adesso torniamo dentro Bello per Fabinho Dentro per Neymar Che vede Van Basten Mamma mia come se ne va Come se ne va Dentro per Polpo Polpo La passa La crossa la voleva dare a Van Basten Mamma mia Van Basten Che forza Oddio Hazard No Hazard Vai Kanté Piglialo Piglialo Bravo Kantéino mio Oddio Cos'è sta roba Bravo Kanté Corri Kanté Dentro per Van Basten Mamma mia che passaggio Ancora per Marco Marco Lino Dentro per Neymar Junior Orco Ragazzi Mamma mia Kanté Ti voglio bene Ti voglio bene Kanté E ritorniamo dentro Ancora dentro Marco Marco Van Basten 2 a 0 2 a 0 Tu tienilo Tu tienilo Tu Vai così ragazzi E si torna carichissimi Ma è cambiato di brutto il gioco E' più fluido rispetto a prima E' più veloce E' più rapido E' più preciso nei passaggi Attenzione perché Kanté Oh la madonna Cosa ha fatto Polpo Eh però poi Si è perso in un bicchier d'acqua Attenzione perché si può ripartire dentro Ancora Marco Van Basten Che però non ce la fa ad andare Eh però sono in difficoltà loro Sono in difficoltà loro Però attenzione Siamo attenti Siamo attenti ragazzi Bravo Ferdinand Ancora dentro Per Eric Bailly Che può andare ancora per Kanté Quasi tutto di prima Ancora dentro per Kanté Dentro ancora per Mbappé Eh però Kanté Mbappé eh dai eh Su siete campioni del mondo Cazzo Vai dentro Per Marco Van Basten Che la ripassa Polpo Che lo rivede Marco Van Basten 3 a 0 E tu tienilo 3 a 0 E tu tienilo Mamma mia Che cosa abbiamo fatto Pausa Pausa da parte sua Attenzione 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 Colpo di scena Marco Van Basten Con una valutazione Di 9.3 Mamma mia Parla da solo Questo giocatore Parla da solo Marco è tanta roba Uh questa squadretta Con Depay Depay premio Lì della SBC Questo qui è bravo Ragazzi De Gea esci E vai subito Dentro Per Lala Che può impostare L'azione Dentro per Bailly Che vede Un golo Kanté E allora possono fare Tutto di prima Tutto di prima Ragazzi Marco Van Basten Dentro per Polpo Eh un TT La prende Però un TT Dobbiamo stare attenti Qui Dobbiamo stare attenti Qui un TT Vai dentro Per Marco Dentro No Ma perché Tete Oddio Palo Oddio Un golo No Vai Bello La tiene Mamma mia Marco Come la tiene Come la tiene Marco Non la tiene nessuno Vai subito dentro Vai subito dentro Vai dentro Marco Ma no Cazzo Si è girato male Marco Dentro Marco Ma andanda Oh Eh Bello Ma cos'è questo Goal Marco col tuo Tienilo Violento Il bello che ho fatto Cos'è questo Goal Cos'è questo Goal Volevo dire Scusatemi ragazzi Cos'è questo Goal Volevo dire Mamma mia Polpo però ha fatto un passaggio pietoso Eh cioè dai Ha avuto culo Vai che li intortiamo Vai che li intortiamo per bene Vai che li intortiamo per bene Vai di là Mamma mia Ancora dentro Ancora per Marco Li stiamo intortando per bene Li stiamo intortando Per bene Marco Bombastin E scelto a zero Subito Tienilo Sculetta Marco E c'è ancora Rage quit Sì Ma no ragazzi Questo Marco è troppo Troppo Forte Troppo Forte Lo tengo Lo tengo Devo fare il video Del trio dei tulipani Ragazzi Spero Che queste due partite Di rage quit Vi siano state D'aiuto Se volete comprare Questo giocatore Perché tantissima Roba Io ve lo consiglio Provandolo così Dopo un mese Quasi Che non tocco La play Che non tocco I joystick In division rivals Assurdo Pazzesco Comunque vi ricordo Di lasciare un like E di iscrivervi al canale Se non l'avete già fatto Con i toti Ricominciamo a fare tutto quanto A fare i video E a spaccare i puli E a fare soprattutto Le live del foot champions Mi raccomando Ritorno come prima Vi ricordo Molto importante Di scrivermi sotto Nei commenti Se lo volete Il video del trio dei tulipani Perché comunque Rude Gullit Comprarlo È veramente tosta Soprattutto la versione 90 Adesso devo vedere Magari prenderò L'86 per il video Tanto per farlo Perché mi sa Che tutti sti crediti Non riesco ad arrivarci Probabilmente adesso Vendo Crespo Vendo un po' di giocatori Che ho nel club Che non mi servono Devo fare un po' di pulizia Quindi magari ci arrivo Quindi noi ci vediamo Un prossimo video Un saluto dal Cina E da Marco Van Basten Fortissimo E bella lì Buuuu Buuuu